Il comune che tutti possiamo dire io sono... Beh, e allora lo dicono tutto. Allora, c'è un canto che ci aiuta a risultare questa domanda. E il canto fa così, è raccontateli. Chi sono io? E voi potete come si dico io? Chi sono 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 io? Nel nome del Padre, e del Ciro, e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, e del Ciro, e dello Spirito Santo. Chi sono io? Oh fratello di Cristo, mi libero, donando la vita. Chi sono io? Il Padre, e del Ciro, 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 e del Ciro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.